Ciao e bentornati alla nuova lezione di tedesco. Oggi impariamo cinque modi di dire in tedesco. Iniziamo subito! Ich verstehe nur Bahnhof. Che significa letteralmente Io capisco solo stazione. Il significato è Noi allora usiamo Ich verstehe nur Bahnhof quando non capiamo cosa intende dire qualcuno. Vediamo un esempio. La maestra sta spiegando come riempire i moduli per essere ammessi agli esami. Pio non capisce come funziona il procedimento e dice al suo compagno di scuola Ich verstehe nur Bahnhof. Che vuol dire che Pio non ha capito niente. Ancora un'importante differenza da sapere Ich verstehe nur Bahnhof significa che noi abbiamo sentito bene cosa è stato detto però non ce la facciamo a seguire il discorso. Non capiamo. Invece, se vogliamo dire che non abbiamo proprio sentito cosa è stato detto magari perché la maestra non ha parlato forte abbastanza dobbiamo dire Ich habe es acustisch nicht verstanden che significa che non abbiamo sentito proprio bene cosa è stato detto. Passiamo al secondo modo di dire Ich habe die Nase voll che significa letteralmente Io ho il naso pieno e lo usiamo quando non ne possiamo più quando ne abbiamo abbastanza. Facciamo un esempio In mio vicino di casa ha per l'ennesima volta la musica ad alto volume che me da fastidio e dico ad un altro vicino Ich habe die Nase voll Ich kann das nicht mehr hören Er mit seiner lauten Musik immer Io ne ho abbastanza Non ne posso sentire più Lui con la sua musica alta tutto il tempo Molte volte apposta di sentire Ich habe die Nase voll Sentirete Ich habe die Schnauze voll Che è più sgarbato Per essere preciso la schnauze ce l'hanno solo gli animali anche se nel tedesco parlato viene usato spesso per l'essere umano. Passiamo al terzo modo di dire Pi mal daumen Che significa letteralmente Pi, cioè il numero 3,1415 e così avanti e si usa quando facciamo una stima e intendiamo dire più o meno un po' come ad occhio e croce nell'italiano Vediamo anche qua un esempio Quanto tempo ci mettiamo da qua a Berlino? Pi mal daumen zwei stunden Più o meno due ore Passiamo al nostro prossimo modo di dire Che significa letteralmente Chi arriva per primo Macina per primo E viene usato quando si vuol dire che viene usata una fila con il motto I primi saranno i primi Cioè Chi prima arriva prima prende Faciamo un esempio La maestra dice alla sua classe Per la nostra cita La prossima settimana Ci sono ancora nove posti liberi Per favore iscrivetevi in tempo per la gita Chi prima arriva prima prende Praticamente la maestra fa capire che i primi nove che si iscriveranno avranno un posto senza riservare posti a tizio e caio Chi arriva come decimo non parteciperà alla gita E il nostro ultimo modo di dire in questo video è Che significa letteralmente prendere i piedi freddi E lo usiamo quando vogliamo dire che qualcuno si è ritirato indietro perché ha perso il coraggio facciamo un esempio Pio Pio non è contento con le idee del preside e dice ai suoi amici Oggi vado dal preside e le dico in faccia cosa ne penso delle sue idee Il giorno dopo Pia e Max parlano di Pio Max chiede a Pia Und Hat Pio gestern mit dem Schulleiter gesprochen? Pio ieri ha parlato con il preside e Pia gli risponde Nein Er hat kalte füße bekommen No Lui si è ritirato indietro Ha perso il coraggio Grazie mille Spero che il video vi sia piaciuto Se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti Alla prossima Ciao